vale? vai vai, fatto, fatto ahi se lo faccio per te urla del quaranta c'è la macchina a pacco? poi... aspettati, aspettati quante cinque? due urlati in quaranta l'ho già detto, due urlati in quaranta un mori, il vecchio bastardo, un mori? eh? c'è della mese, vecchia e c'è successivo, insomma ti spacchi le gambe poi... devi ghiacciare io dallo battesparo, non è morto ci diamo un piazzetta e... che altro? ah, un ciclo unica dai? un ciclo unica ahah 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 eh... neanche un minuto ahah 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 come 5 minuti? 5 minuti 5 minuti si si 5 allora cazzo ma si non si con un 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 fonte 2019 un a se si a non lo è simile da qua sopra foscade e poi vieni qua sopra e dai vieni qua sopra i freddi e ok ero si 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 3 minuti e 48 ancora un minuto ancora un minuto ancora un minuto? oh bambini riuso mi sento piena mani oh goddio non faccio più si è scaduto? si funziona 4 minuti ancora 30 secondi non va più eh qua è entrata la neve è entrata la neve finito 15 secondi le palle ma non sono bagnato oh goddio beh è finito l'ho fatto per te nulla è farata va chiuso